Concerto a favore della Croce Bianca Milano Sezione Centro Quest'anno, sfruttando l'idea nata con il progetto PianoCity, la Croce Bianca Milanco Centro il giorno 19 dicembre avrà il piacere di intrattenere un pubblico di 185 persone con le note suonate dai nostri soccorritori. L'evento si terrà presso il Teatro Wagner e sarà aperto a tutti i nostri soci, volontari, VIP nonché alla cittadinanza. Vi preghiamo pertanto di confermare quanto prima la vostra presenza, e quella dei vostri cari, inviando una mail all'indirizzo eventi chiocciolacrocebiancamilanocentro.org